500 like subito per la reaction alle giocate di full krug ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video ebbene sì parliamo di attaccanti parliamo di milan parliamo di mercato immobile raga non succede nulla io voglio sperare che settimana prossima uno uno ma che sia mi va bene anche il vice vice calabria ma facciamo un cazzo di acquisto vi prego non ne posso più già fa caldo già è tutto appiccicaticcio almeno un sospiro di sollievo con un nuovo acquisto vi prego questo è il mio urlo disperato per la società scherzi a parte ragazzi che poi si scherza anche se in un certo punto parliamo di attaccanti perché come sapete manca il vice girù ma vi ho spaventato spero di no manca il vice girù ragazzi è incredibile come io ero convinto di sta robocca ho detto volete vedere che alla fine ci ritroviamo a metà luglio con la preparazione già iniziata a non avere ancora l'attaccante ed è così ed è così vabbè comunque ci sarà la finale domenica dell'europeo e quindi in teoria poi lunedì dovrebbero ufficializzare morato almeno tutti gli indizi portano a lui come sapete un giocatore che non mi ha mai fatto impazzire non l'ho mai nascosto ma non adesso è anche nel 2018 2017 se andate a recuperare i miei video vi ho sempre detto per carità nulla a dire al giocatore però personalmente non mi fa impazzire a quanto pare lui la scelta per sostituire girù come sempre come ho fatto anche per l'allenatore il mio sostegno sarà massimo per albero così come massimo sostegno avrà fonseca per quanto mi riguarda detto questo ragazzi oltre al nome di alvaro morata che ormai danno tutti per per scontato quindi io mi affido a ciò che leggo e l'altro sbucano altri due nomi da un lato questa cosa mi fa ben sperare a dire ok probabilmente non arriverà solo morata ma arriveranno due attaccanti e pare che oltre a morata il milan stia opzionando sia tabi abram della roma ma anche nicholas fulcbrug fulcbrug fulcrug fulcrug nicholas fulcrug del del burussia dortmund per quanto riguarda tabi abram pare che il milan abbia provato a inserire una contropartita tecnica vale a dire jovic così così questo letto e questo vi dico volevano fare uno scambio ovviamente non alla pari perché il valore di tabi abram è sicuramente più alto quindi l'idea era mettiamo jovic più un conguaglio la roma pare che abbia risposto no grazie la roma diciamo non esclude un addio di tabi abram però lo valuta lo valuta tanto il valore suo si aggira intorno ai 30 milioni di euro per me è una cifra super eccessiva è un giocatore che personalmente non mi piace ve lo dissi anche in quel famoso vlog con anthony dove lui diceva sai che a me tutto sommato tabi abram potrebbe piacermi a me non fa impazzire non fa impazzire per nulla e poi mettiamoci anche gli infortuni che ha avuto che hanno condizionato la stagione due stagioni fa e soprattutto la scorsa stagione non è mai riuscito poi a tornare ai buoni livelli non dico ottimo ai buoni livelli quindi prendere un giocatore che è stato così sfortunato non lo so non mi convince tanto ovviamente posso fare anche la reaction a tammy abram così da accertarci che non arriverà mai al milan quindi oltre a questa pista oltre a quest'ipotesi tammy abram ditemi cosa ne pensate ditemi se magari a voi piace potrebbe essere un attaccante per voi giusto per il milan è ovvio ragazzi che i discorsi che faccio sono legati soprattutto ad averlo come giocatore principale già se mi è un panchinaro avere tammy abram in panchina a me va bene gioca morata poi c'è tammy abram in alcune partite può fare anche il titolare è ovvio che ragazzi non mi ci fate pensare neanche all'idea di avere tammy abram titolare con jovic in panca vi prego pietà pietà per il mio sistema nervoso cambiamo giocatore come dicevo idea pazza idea nicolas full crew full krug ci metto sempre la b di mezzo non so perché full krug molto più semplice di quel che si pensi giocatore di 31 anni perché un classe 93 un bel marcantonio 1 e 90 ovviamente lo conosciamo di più soprattutto dallo scorso anno chi ha fatto molto bene nel borussia dortmund aveva fatto anche bene due anni fa nel word embrema è un giocatore classico giocatore come dire bello cazzuto diciamo così con un sacco di gavetta si è sparato un sacco di serie b tedesca è un giocatore sicuramente che tra tutti quelli che vengono accostati al mina force tra tutti quelli concreti effettivi che vengono accostati al mina forse è quello che mi ispira un po di più tra ciò che è rimasto perché purtroppo il problema è sempre quello se ti muovi in ritardo è ovvio che poi abbassi anche il livello dei giocatori che possono venire e lui è un giocatore che vi ripeto lo scorso anno ha fatto bene due anni fa ha fatto bene ha fatto bene anche in germania è un tipo molto particolare che secondo me darebbe anche tanta personalità tanto tanto carisma anche tanta cazzimma dalla squadra cos'è che diciamo mi mi convince un po di meno il fatto che abbia sempre e solo giocato in germania e bundesliga nella serie b però non ha mai avuto un'esperienza anche solo di un prestito in inghilterra in spagna in francia quindi ha sempre giocato solo in germania e considerando che la storia del calcio ci insegna che sono tante le situazioni in cui un giocatore fa benissimi in un campionato poi cambia campionato e non riesce a replicarsi non riesce ad adattarsi perché ci sono come dire c'è c'è tutto un mondo diverso alle volte sembra quasi che cambi sport tra si cambi sport tra una nazione e l'altra questa roba qua un po mi spaventa poi magari con la personalità che si ritrova viene in serie a e fa benissimo e non lo sto dicendo di no però diciamo di mio preferisco prendere quei giocatori che magari hanno avuto l'esperienza fuori hanno fatto bene andato in francia ha fatto benino è andato in spagna è riuscito dopo un periodo di adattamento a fare bene un giocatore come lui che ha sempre giocato solo in germania non lo so mi mi spavento un po e poi c'è da dire il borussia dortmund sarà disposto effettivamente a darlo via perché lui è un contratto sino al 2026 quindi ancora ci sono altri due anni è vero che il borussia d'ortmund vorrebbe prendere seru girassi vi ricordate girassi che si parlava anche lì di milan clausola regissoria molto bassa eccetera eccetera il borussia d'ortmund sta cercando di prendere girassi che lo scorso anno ha fatto benissimo nello stoccarda con 30 partite e 30 gol però pare che ci siano stati dei problemini per quanto riguarda le visite mediche dovranno fare altri accertamenti e quant'altro per adesso il suo passaggio è congelato e ovvio che se dovesse arrivare girassi full krug sarebbe sicuramente un po più chiuso lì in attacco però questo non significa secondo me che cambierà aria non è detto secondo me va bene signori io vi saluto vi ringrazio e vi ricordo che è uscita la top 10 degli acquisti mancati dal milan e chi lo sa che in una seconda edition non ci metterò anche i vari full krug tutti questi giocatori accostati al milan girassi e compagnia bella temi abram eccetera detto questo vi saluto vi ringrazio fa un caldo clamoroso vi ricordo 500 like facciamo subito la reaction alle giocate di full krug per adesso è tutto buon sabato e a dopo ciao